Grazie anche a tutte le persone che mi stanno scrivendo e mi scrivono comunque da mesi, perché leggo tantissimi di voi e non lo do assolutamente per scontato. E un grazie particolare a non so chi sia ma chi ha fatto questi cartelloni qua di fronte vicino a casa mia, bellissimi per il mio compleanno. Chiara Ferragni, celebre influencer, ha recentemente condiviso un video commovente sui suoi social media per ringraziare i suoi numerosi fan per gli auguri ricevuti. Nel video festeggia con gioia insieme ai suoi adorabili figli, Leone e Vittoria, appena tornati da scuola. L'atmosfera è resa ancora più festosa da una bellissima torta decorata, con una candelina, che emana un profumo invitante. La Ferragni, radiosa e grata, trasmette un'energia positiva che contagia i suoi follower, rafforzando il legame speciale che ha con la sua vasta community online. Grazie. 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 Grazie.